Non rifiutiamola perché significherebbe rifiutare la nostra vita. La nostra vita è così, è fatta di ferite, ma è proprio lì che viene fuori il vino nuovo, l'amore più autentico, come quando marito e moglie si sopportano nei loro difetti, come quando l'amore diventa più costoso, come quando si soffre per amore. Baciamo la croce, fatelo ogni sera, ve lo consiglio, io ce l'ho sul comodino, sapete? Il crocifisso. Ogni sera prima di andare a dormire, un bacio, signore donami di amare come tu mi hai amato, signore, fa che le mie ferite, le mie piaghe, le mie sofferenze, ma anche le mie preoccupazioni, le mie ansie, anche i miei limiti, le mie incapacità, ma persino i miei peccati, signore, vengano raggiunti da te e si trasformino in vita. Tu sei il signore della vita, basta con i funerali, celebriamo la gloria del risorto. Siamo dato Gesù Cristo.